Si è tenuta sabato scorso, presso il Palazzo Busacca di Scicli, la presentazione del libro Cucina Mediterranea, integrata e terapie oncologiche. Si tratta di un importante studio scientifico, volto a fornire una vera e propria guida sull'alimentazione da preferire, ma anche sulla tipologia di cottura e sui cibi da evitare assolutamente. L'iniziativa è stata promossa da Farma Barocco e il libro è stato curato da tre autori, Elisabetta e Adolfo Sbisa e Maragrazia Forte, che ha parlato delle finalità degli obiettivi del lavoro. La finalità di questo lavoro è semplice, fornire al paziente un manuale che possa aiutarlo durante le terapie oncologiche, un manuale di cucina, che non rappresenta un vademecum soltanto per il paziente, ma anche per i parenti. Quindi tutta la famiglia può usufruire di questo libro di facile gestione, di facile intuizione. C'è una parte scientifica nel libro trattata tuttavia in maniera semplice, proprio perché possa essere rivolto a tutti. C'è una parte poi dove vengono rappresentate delle ricette di cucina, la nostra cucina mediterranea, che abbiamo chiamato cucina mediterranea integrata, proprio perché abbiamo ritenuto di prendere da tutte le parti del mondo quello che ci poteva dare di buono, che ci potesse aiutare sia nella prevenzione che durante proprio la gestione delle terapie. Di oncologia integrata ha parlato in maniera molto approfondita il professor Massimo Bonucci, presidente di Artoi, Associazione Ricerche e Terapie Oncologiche Integrate. Si parla di oncologia integrata considerando che si utilizzano le sostanze naturali o altre metodiche in associazione a quella che è la terapia classica, ovvero un qualsiasi tipo di tumore viene sia affrontato dal punto di vista classico, convenzionale, quindi con la chiameterapia, con la radioterapia o l'immunoterapia, ma in più ci sono una serie di metodiche, metodologie e sostanze che possono essere utilizzate, in alcuni casi secondo noi dovrebbero essere utilizzate, per andare da una parte a ridurre gli effetti collaterali della chiameterapia, cioè del trattamento classico, ma dall'altro sono anche quelli che possono dare un aumento dell'azione della chiameterapia, la radioterapia o immunoterapia stessa. Alla presentazione del libro, patroginata anche dall'Associazione dei Medici di Famiglia, ha partecipato anche il manager dell'Asp di Ragusa, Maurizio Ricò. Curare un paziente ammalato di un tumore è uno sforzo che deve integrare verso quel paziente tutte le possibilità terapeutiche che abbiamo, che certamente partirà dalla chemioterapia o dalla radioterapia a secondo del tipo di tumore che dobbiamo curare, ma che non dovrà trascurare la terapia di supporto, non dovrà trascurare gli integratori, non dovrà trascurare i supporti vitaminici, la terapia anti-infettiva, le profilassi, le terapie comportamentali. Dobbiamo cercare di fare tutto quello che per quel paziente sarà utile per migliorare il suo stato generale, per migliorare anche il suo umore, la sua capacità di reagire, di non deprimersi. Dobbiamo mantenere il suo peso, dobbiamo tenere un buon stato nutrizionale e quindi non ci deve essere gelosia da parte di nessuno degli specialisti. Dobbiamo metterci a tavolino e integrare tutti i metodi che possono essere utili a ciascun paziente perché ciascuno abbia il massimo risultato possibile. Diversi gli alimenti che un paziente oncologico dovrebbe consumare con molta parsimonia, ancora più quelli sconsigliati durante un regime di aggressione al cancro. Un adeguato stile alimentare può modulare gli effetti negativi delle terapie e al tempo stesso aiutare l'organismo ad essere più ricettivo nei confronti delle cure.